Bene amici, la serratura del mio studio è stato l'ultimo baluardo meccanico a cadere e a diventare tecnologico però devo dire che è ormai da oltre un anno che ho una serratura smart e non potrei più tornare indietro dal controllo degli accessi, dal fatto di non portarmi più dietro la chiave dal fatto di non dare una chiave meccanica che comunque può essere duplicata ma una chiave elettronica che può essere disabilitata quando si vuole magari a chi deve fare una manutenzione o a chi deve venire a fare le pulizie è veramente super super comodo e oggi provo la Yale Linus Smart Lock come funziona? Molto semplice è un plug and play, praticamente c'è questo corpo che viene attaccato alla serratura qua c'è il vano delle batterie, 4 pile stilo e come funziona? Beh, poi la montiamo insieme ma tendenzialmente, tra l'altro è bella, pesante, materiali belli, mi sa duraturi nel tempo si collega così alla serratura, la chiave rimane nella serratura della porta e si infila qua dentro, questo è un motorino che girando apre e chiude la serratura tra l'altro le bluetooth, se si vuole andare a remotizzare il controllo anche oltre 10 metri portato dal bluetooth c'è il connect wifi bridge che si collega alla vostra rete wifi e permette anche di condividere la chiave di aprire da remoto, di controllare da remoto lo stato dell'apertura della porta aperta, chiusa o su chiusa? Ma adesso montiamolo e ovviamente si parte con il download dell'applicazione Yale Home, ho creato l'account e poi mi chiede di scansionare il QR code QR code che è posizionato qua nello sportellino delle batterie qua dietro, quindi vai, scansione, ok ha riconosciuto il numero di serie e adesso ci fa qualche domanda su dove è installata la serratura per capire sia la compatibilità, ma questa si deve verificare prima di acquistarla sul sito Yale ma anche per capire come va configurata per esempio mi chiede se la maniglia all'esterno muove lo scrocco e se la maniglia deve essere sollevata per bloccare la porta insomma un po' di spec per poi andare a tarare il motore e poi la guida passo passo 3 minuti netti per rinstallarla ho attaccato anche questo sensorino magnetico che farà capire alla serratura lo stato della porta e l'immancabile aggiornamento del firmware bene così e dopo l'aggiornamento firmware la calibrazione della serratura l'applicazione mi dice di girare completamente il pomolo fino alla chiusura e poi fino all'apertura finché non si ferma ok e poi mi dice una cosa importante non aprirlo fino a girare lo scrocco mi sembra molto attenta questa calibrazione e dopo tutte le domande avete visto adesso si è autocalibrata direi che ci siamo adesso mi chiede di collegare alla rete wifi e ovviamente lo si fa configurando il bridge che ovviamente posiziono nel mio armadietto della connettività sotto UPS l'importante è che sia a portati bluetooth con la serratura e voilà ci siamo configurato tutto tramite applicazione adesso posso aprire e chiudere la serratura sia via bluetooth se sono vicino sia via wifi se sono lontano posso ovviamente controllare lo storico di chi ha aperto e di chi ha chiuso posso andare a invitare ospiti, amici, parenti e collaboratori e adesso direi che la provo per qualche settimana per vedere l'affidabilità e poi vi racconto e dopo due settimane e un taglio di capelli eccoci a trarre un po' le conclusioni veramente comoda l'ho trovata affidabile in queste due settimane non ho avuto problemi apertura, chiusura sia sotto bluetooth sia sotto rete wifi e non so se non sentite ma devo dire che è una serratura molto silenziosa nell'apertura e nella chiusura becca sempre anche la porta quando è socchiusa non chiusa bene vi arrivano le notifiche se volete impostarle quando magari la porta rimane aperta insomma devo dire che mi sono trovato bene per esempio guardate adesso ingresso corsocom mi è arrivata una notifica perché l'avevo lasciata un po' socchiusa ovviamente come dicevo c'è tutto lo storico di chi ha aperto di chi ha chiuso sia da remoto sia da locale sia direttamente dalla serratura perché si può fare anche quello e parlo della batteria purtroppo ho solamente due settimane di storico Iale dice dai 6 ai 9 mesi in base a quante volte si apre e si chiude la serratura e qua la lista degli ospiti tra l'altro si possono dare delle priorità e delle possibilità diverse rispetto a che siano dei proprietari io e Chiara degli ospiti il Pietro il mio collaboratore che può ovviamente aprire e chiudere le porte e ovviamente si può invitare o tramite il numero di cellulare oppure tramite i contatti che avete già sul cellulare nelle impostazioni ci sono delle cose interessanti perché la serratura si può attivare o disattivare con un riconoscimento biometrico dall'applicazione e poi si possono attivare o disattivare i suoni bling 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 blong quando è aperta e chiusa la serratura e devo dire che questa è un'opzione intelligente e poi sblocco automatico blocco automatico in base alla geolocalizzazione quindi quando vi avvicinate alla serratura si può decidere se aprirla e quando vi allontanate se chiuderla e poi la calibrazione che funziona abbastanza bene ecco ho dovuto provare tre o quattro volte per far capire bene la serratura qual era l'apertura prima dello scrocco ovvero prima che la serratura aprisse anche proprio la porta senza bisogno del non so come chiamarlo non sono un fabbro ma insomma l'ultima parte di serratura quando si gira la maniglia e si lascia la porta praticamente libera cioè girando la chiave completamente ecco l'unica criticità forse è un po' quella e poi gli avvisi smart che anche qua si possono configurare vedete io ho configurato l'avvisami quando la porta viene lasciata socchiusa quindi magari quando uno non la chiude bene ma si possono scegliere eventi per esempio quando la porta è bloccata o sbloccata manualmente quando un utente specifico blocca o sblocca la porta viene bloccata automaticamente insomma si possono ricevere delle notifiche in base a cose che succedono altra cosa molto molto interessante la possibilità di andare a integrare con Alec HomeKit Google Airbnb FTTT Philips Hue per fare delle automazioni la cosa interessante è che con tutti questi sistemi si può fare sia la chiusura ma anche l'apertura però l'apertura con comando vocale rimane sotto pin vocale cioè voi dovete dire Alec apri la serratura e poi dovete dire codice 1,2,3,4 o quel che l'è e quindi si può aprire e ovviamente per la sicurezza è fondamentale perché se no da fuori la porta una qualsiasi persona dice Alec apri la porta non sarebbe proprio sicuro Airbnb bella l'integrazione perché poi potete usare questa serratura su un appartamento che andate in affitto e utilizzare solamente delle chiavi elettroniche automaticamente nell'applicazione al check-in ecco iFTTT si va a integrare tramite un diciamo sotto applicazione si chiama una August Integration quindi non semplicissimo da configurare ma tutte le altre configurazioni sono semplici e l'integrazione con Philips Hue consente quando si apre la porta magari di accendere qualche luce idem quando si chiude la porta si va via magari di spegnere qualche altra luce Philips Hue ma tutte queste automazioni si possono fare anche con Amazon con Apple Home Kit o Google ovviamente andando a settare delle automazioni quindi decisamente ben integrata ci sono degli accessori il primo è il tastierino perché volendo non volendo dare il codice applicazione oppure magari qualcuno non ha l'applicazione magari avete qualche persona anziana che deve aprire e chiudere la porta c'è il tastierino numerico su con cui fare un codice e sbloccare la serratura e poi c'è un cilindro universale che Yale vende compatibile con questa serratura perché magari il vostro cilindro non è compatibile ecco una cosa molto importante vuoi qualsiasi funzionamento vuoi finisca la batteria vuoi succeda qualsiasi cosa perdete lo smartphone c'è sempre la possibilità dalla parte esterna della porta di aprire e chiudere con la vecchia chiave ovviamente il cilindro deve essere lungo abbastanza per poter mettere due chiavi e per poterle comandare ovviamente se questo non accade oppure se la parte interna avete il pomolo Yale mi sembra 39 euro vende un cilindro che è adattabile praticamente a tutte le serrature quanto costa 205 euro che secondo me cioè io ormai ripeto da tanto tempo uso una serratura smart mi sono tratto bene anche con questa Yale e non ne posso più fare a meno è super comoda a livello di sicurezza ovviamente tutte le comunicazioni sono criptografate sia quelle sotto wifi sia quelle via bluetooth la sicurezza assoluta non esiste ma secondo me è molto meno sicuro portarsi dietro una chiave che si può perdere poi bisogna cambiare tutto il cilindro che possono duplicare facilmente rispetto ad avere un codice elettronico comunque è molto ma molto più complicato e poi se si perde si distrugge quello e siamo a posto il bridge molto comodo per gestire da remoto ma non solo per gestire l'apertura e la chiusura ma anche per vedere oddio ho lasciato la serratura aperta oddio ho lasciato la porta aperta da remoto comunque lo potete vedere costa intorno ai 70-80 euro e il tastiere non mi sembra che costi intorno ai 65 euro quindi da Yale devo dire un bel prodotto ben integrato ben funzionante e viva anche la serratura smart un anno fa prima di provarle non l'avrei detto oggi si ciao